Finalmente c'è una nuova aggiunta, che giudizia possiamo dare delle scelte del primo cittadino? Tra l'altro lei di recente ha di nuovo chiesto le dimissioni del sindaco. Ma sì, perché si tratta di un macchiage di bassissimo profilo sotto il profilo politico, nel senso che al di là delle persone finisce uno stilicidio di oltre 100 giorni dalle dimissioni di Cavallari che dimostrano come il sindaco è ostaggio di piccoli giochi politici da parte di papà Sandro Mariani, zio di Dalmazio, abbiamo anche il nonno che è il presidente della provincia, che si interessa in maniera molto forte anche troppo forse delle vicende del comune. E quindi diciamo che è un'operazione che ho anche definito gattopardesca, cambiare tutto per non cambiare niente. Ero stato facile profeta lo scorso anno, quando all'insediamento della Giunta dissi agli assessori che non avrei dormito al posto loro, sonni tranquilli, visto anche quello che era successo nella precedente consigliatura, dove dopo due anni erano cambiati due assessori. È un modo di fare politica che non tiene conto dei veri problemi di questa città, è un modo che ormai è arrivato al capolinea, quindi noi chiediamo le dimissioni, perché usando una parabola sportiva, quando una squadra gioca male, perde sempre, è ultima in classifica, normalmente l'allenatore e il manager o si dimettono o vengono sostituiti. Quindi l'unico che deve essere sostituito e si doveva dimettere era il sindaco, che invece ha cambiato i giocatori, perché è troppo facile cambiare i giocatori. La città di Teramo non merita questo e quindi davanti a tutte le problematiche, sono 50 giorni che non si fa un consiglio comunale ordinario. Ci hanno messo 100 giorni per cambiare un assessore, fare anche un rimpasto che non era dovuto. Io penso che il vaso è colmo. Si parla anche di un valdo di Buonaventura che adesso passerà all'opposizione. Lei se lo aspetta? Ma guardi, io da quel poco che ho cominciato a capire in politica, mi aspetto di tutto il contrario di tutto. Vedo che comunque in questa maggioranza, nonostante ci siano tanti mal di pancia, tante questioni che devono essere chiarite, alla fine una quadra la trovano e quindi bisogna essere dei grandi politici per cercare di sovvertire delle ipotesi. Valdo di Buonaventura, ovviamente politicamente, farà le scelte che riterrà opportune. Anche perché capiamo una cosa, questo rimpasto, mentre prima aveva un sapore, prima diciamo fino a qualche anno fa, un sapore diverso da un punto di vista delle conseguenze, oggi ha delle conseguenze politiche importanti per un personaggio politico, un ex assessore. Uno perché ovviamente stiamo parlando anche di uno stipendio importante, quindi da un punto di vista economico. E due, non potrà più parte del consiglio comunale, quindi oggi Valdo di Buonaventura non è un consigliere comunale, Ilaria Di Santis non è un consigliere comunale, quindi esce dal lagone della discussione delle problematiche della città. E questa è una cosa ulteriormente grave.